E adesso torna l'appuntamento con Libri nel Borgo Antico, la rassegna dedicata alla lettura e ospitato dalla città di Bicelli. Oggi vi proponiamo l'intervento di Sergio Fontana che commenta il libro di Alessandro Ricchiuti, L'impresa si fa, non si racconta. Un libro al giorno incontra Sergio Fontana per parlare del libro L'impresa si fa, non si racconta, scritto da Alessandro Ricchiuti e eredito da Adda. È una situazione politica sempre tesa, quella italiana. Come si muove il mondo dell'economia? Fare impresa al sud è una cosa complicata, è una cosa più complicata che farlo in Italia, in altre parti di Italia e in altre parti di Europa. Lo dico a nome delle 700 imprese che rappresento in qualità di Presidente la Confindustria. Questo libro è un libro che racconta delle esperienze, delle conoscenze di alcuni imprenditori che possono agevolare moltissimo sia chi già fa impresa sia chi si accinge a fare impresa. Ci sono delle best practice, ci sono degli errori che possono essere evitati perché una delle cose in cui abbiamo bisogno nel nostro territorio, nel nostro sud, è cultura di impresa. Questo libro, che è un libro molto discorsivo, molto piacevole anche da leggere, è un vademecum delle best practice, delle cose da fare, delle cose da evitare quando si fa impresa. Grazie a Sergio Fontana con cui abbiamo parlato del volume L'impresa si fa, non si racconta, scritto da Alessandro Ricchiuti e edito da Adda. Grazie a Libri nel Borgo Antico, la rassegna che si tiene ogni anno l'ultima settimana di agosto a Bisceglie. Appuntamento al prossimo libro.